Musica E TG più Today, buongiorno, ben ritrovati. Martedì mattina, come sempre, un'ora da trascorrere insieme per approfondire tutte le notizie principali della giornata e anche, lo faremo tra pochissimi istanti, per aprire una finestra sulla Lombardia. E allora, innanzitutto, occhi puntati sulla Turchia, nella capitale, Istanbul. Sono iniziati i colloqui di pace per cercare di arrivare a una cessate il fuoco dopo oltre un mese dall'invasione russa in Ucraina. E allora, vediamo subito sui principali siti di informazione rilanciati dall'Ansa le agenzie degli ultimissimi minuti con le prime parole del presidente turco Erdogan. Una pace giusta non avrà un perdente. Tra l'altro, ai negoziati sta partecipando anche Roman Abramovic nelle scorse ore. Il giallo sul presunto avvelenamento del Magnate, che ora vive stabilmente nel Regno Unito e che avrebbe avuto sintomi di un avvelenamento dopo aver partecipato alla precedente riunione dei colloqui di pace. Notizie in parte smentite, mentre in parte sono arrivate anche conferme su quelli che sarebbero stati i sintomi dell'avvelenamento. Sintomi comunque fortunatamente lievi, tanto che Abramovic sta di nuovo partecipando ai negoziati. C'è anche la cronaca italiana però in queste ore in primo piano, perché è stato probabilmente risolto o comunque c'è una svolta nel giallo della donna uccisa e fatta a pezzi, ritrovata nei giorni scorsi in una scarpata in Valcamonica. E' stato arrestato il vicino di casa, che sarebbe il killer. Il delitto risalirebbe addirittura a gennaio. Charlotte Angy sarebbe stata uccisa dal vicino di casa, fatta a pezzi. L'uomo l'avrebbe tenuta per settimane in casa nel congelatore. Poi la decisione di liberarsi del cadavere e poi appunto in queste ore la svolta con l'arresto proprio del vicino di casa. Leggeremo poi naturalmente anche questi dettagli, ma lo vediamo naturalmente anche sul Corriere. In primo piano la situazione aggiornata in tempo reale su quelli che sono i negoziati per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina. Lo vediamo anche dal Corriere. C'è Abramovic e Erdogan, dice Putin e Zelensky sono amici preziosi. Il ministro ucraino ripete non mangiate e non bevete. Questo appunto dopo il giallo dell'avvelenamento di Abramovic. La denuncia ha perso per ore la vista, una sorta di avvertimento potrebbe essere stato considerato. Questo avvelenamento però di fatto senza conseguenze drammatiche, seppure con conseguenze temporanee serie a livello fisico. Intanto vediamo anche le previsioni di Petreus. Gli ucraini possono battere i russi attenti a Mariupol. Queste le parole del generale ex capo della CIA servono aerei senza grossi annunci e rinforzi. Non escludo che i russi cambino passo. La presa di Mariupol potrebbe dare morale proprio appunto al popolo ucraino che da più di un mese resiste all'invasione russa. Andiamo a vedere l'apertura anche su Repubblica, sempre dedicata ai negoziati ripartiti nella capitale turca. C'è anche Abramovic, Erdogan, Putin e Zelensky sono amici preziosi. Le parole appunto del presidente turco. I colloqui di pace in apertura anche sulle 24 ore con l'immagine della riunione in corso in Turchia. Tra l'altro Erdogan si è detto disponibile anche ad ospitare proprio in Turchia un possibile incontro tra Zelensky e Putin. Ma di questo continueremo a parlare con tutti gli ultimi aggiornamenti tra poco. Prima apriamo la nostra finestra sulla Lombardia. Allora andiamo da Elisa Santamaria. Buongiorno Anna e buongiorno a tutti gli amici di ETG Today. Siamo in provincia di Lecco. Ci siamo spostati nel quartiere di Pescarenico a Lecco. Alla mia destra puoi vedere l'isola Viscontea per parlare di siccità. Quest'isola si trova, pensa, è un isolotto fluviale sull'Adda e si trova tra il larramo di Lecco dell'Ario e il lago di Garlate. Siamo venuti fino a qui proprio per parlare del momento difficile che stanno vivendo i fiumi e laghi lombardi che ormai da mesi non vedono una goccia di pioggia alla vigilia di quella che potrebbe essere la prima giornata che porterà finalmente delle precipitazioni sulla Lombardia che potrebbero dare un sospiro di sollievo anche all'agricoltura dato che sta subendo le ripercussioni di questo periodo di stabilità. Abbiamo sentito questa mattina per telefono il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi e dell'Ambi Lombardia Alessandro Folli che ci ha fatto il punto della situazione in vista anche delle piogge mentre si era in aeroporto proprio per partire in direzione di Roma per andare al Ministero dell'Ambiente e riportare quali sono le preoccupazioni e i problemi di questo momento nella nostra regione. Di questo e d'altro parleremo nel prossimo collegamento. E allora noi torniamo a Lecco tra poco, intanto vi ricordo che è sempre possibile intervenire in diretta 031-3300-655 per le telefonate, 335-708-4396 invece per i messaggi Whatsapp. E allora prima di entrare nel dettaglio di quelle che sono le notizie principali di questa mattina andiamo a vedere anche la situazione delle strade lombarde con la nostra rubrica in collaborazione con Anas. È chiusa al traffico all'altezza di Colonna la statale Regina proprio per i lavori della variante della Tremezzina chiusura che rimarrà almeno fino al 5 aprile prossimo. Ci spostiamo sulla strada statale 45 bis Gardesana Occidentale fino al 13 aprile è chiusa la Galleria Montecovole in località Roevolciano nella fascia oraria dalle 21 alle 6 esclusi giorni festivi e prefestivi in entrambi i sensi di marcia. Circolazione deviata sulla viabilità comunale. Sulla strada statale 469 e Sevina Occidentale fino all'8 aprile dalle 7 alle 17 senso unico alternato in Galleria Poltirone esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 461 del Passo del Penice invece senso unico alternato causa lavori di manutenzione a partire dalle 18 del 31 marzo prossimo fino alla mezzanotte del 30 aprile tra l'incrocio Cadelmonte e l'incrocio Campore. Infine sulla strada statale 526 dell'esticino incidente all'incrocio tra Abbiategrasso e l'incrocio tra Magenta e la strada statale 11 e la strada statale 336. Quindi attenzione, prudenza, ovviamente conseguenze sul traffico. È possibile rimanere aggiornati in tempo reale con l'app Vai di Anas oppure collegandosi al sito www.stradeanas.it o ancora telefonando al numero verde gratuito pronto Anas 800 841 148. E allora torniamo a quelle che sono le notizie della giornata. Naturalmente in primo piano i colloqui in corso in Turchia, i colloqui nel tentativo di arrivare a una cessate il fuoco. Ci sono già state le prime dichiarazioni del presidente turco Erdogan, ma spazio anche alla cronaca italiana per una svolta agghiacciante nel giallo appunto della giovane donna uccisa e ritrovata a pezzi. Nei giorni scorsi c'è una svolta nel giallo della scomparsa a Borno di Carol Maltesi, 26 anni, conosciuta come Charlotte Angie. La ragazza è stata uccisa, il suo corpo è stato fatto a pezzi e buttato in un dirupo in alcuni sacchi neri. È stato fermato un vicino di casa, un uomo di 43 anni. La svolta proprio nelle scorse ore, il 43enne avrebbe già confessato di aver ucciso Carol Maltesi, 26 anni, nota anche con il nome di Charlotte Angie, il cui corpo era stato ritrovato domenica scorsa, 20 marzo, in una scarpata a bordo di una strada interna della Valcamonica, nella piccola frazione di Paline di Borno, in provincia di Brescia, al confine con la provincia di Bergamo. Il corpo della giovane donna sarebbe stato tenuto in un congelatore, sezionato in almeno una quindicina di pezzi, chiuso in quattro sacchi neri e abbandonato tra rovi e rifiuti. L'uomo è accusato di omicidio volontario, aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. L'impulso alle indagini è stato dato da una segnalazione che è arrivata al sito locale bsnews.it, attorno al quale gli inquirenti hanno concentrato le verifiche. In base alla corporatura esile, un metro e sessanta di altezza per circa 50 kg della vittima, ma anche ad almeno sette degli undici tatuaggi riscontrati dal medico legale e divulgati dagli inquirenti, proprio per cercare di dare un nome al cadavere, il corpo risultava compatibile con i disegni sulla pelle di Carol Maltesi, conosciuta come Charlotte Angie, una casa nel milanese, metà italiana e metà olandese. Scomparsa da giorni, vediamo appunto, erano stati diffusi dagli inquirenti i tatuaggi, proprio per dare un nome al cadavere, fatto a pezzi e abbandonato in provincia di Brescia. Da giorni i profili social, come le piattaforme in cui si esibisce, risultavano inattivi, nessun post o aggiornamento. Non solo, definita dagli addetti ai lavori, nei mesi scorsi, l'astro nascente dell'Arda Italiano, la sua partecipazione era annunciata anche da Locandine in rete, in un locale in centro a Milano per un evento in programma dall'11 al 13 marzo scorso, ma i riscontri sulla sua effettiva presenza erano risultati negativi, vani anche tutti i tentativi di contattarla. Il telefono risultava staccato. Nel frattempo hanno lavorato per ricostruire legami e movimenti di Carol, contattando le persone a lei vicine e chi la conosceva. Al vaglio di chi indaga anche l'analisi incrociata delle immagini cristallizzate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e sulle arterie stradali vicine al punto di ritrovamento del corpo. Ad avvistare i sacchi, attorno alle 15.30 di domenica scorsa, è stato un residente della zona di 60 anni. Certo, si trattasse di spazzatura, con l'intento di rimuovere dal dirupo quei sacchi neri, si è avvicinato al primo, buttato a circa 7 metri dalla carreggiata. È bastato smuoverlo un po' per accorgersi che si fosse in parte lacerato e notare una mano sporca di terra. La mano di una donna, con le unghie molto curate, smaltate di lilla, con i glitter argento. Subito avvisato le forze dell'ordine, innescando l'indagine che ha portato alla svolta nella notte tra lunedì e martedì. Secondo quanto confessato dall'uomo, l'omicidio sarebbe avvenuto a gennaio dalle indagini. Era emerso che lo scorso 20 marzo l'auto intestata a Carol Maltesi era transitata proprio nel territorio di Borno, guidata da un uomo. Ieri il vicino di casa della vittima si è presentato in caserma per fornire informazioni sulla donna scomparsa, ma le sue parole si sono rivelate contraddette dalle emergenze investigative fino a quel momento acquisite, spiegano gli inquirenti. Interrogato dal magistrato e dai carabinieri, l'uomo ha poi confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere avvenuti a gennaio 2022. Il corpo sarebbe stato prima riposto in un congelatore nella casa della stessa vittima, poi gettato nel dirupo di montagna. L'omicidio e la distruzione del cadavere sono avvenuti a Milano, mentre l'occultamento è avvenuto a Brescia. L'uomo, come è stato rivelato appunto dal sito BS News, ha anche risposto al cellulare, fingendo di essere la sua vittima, tra l'altro rispondendo alle domande di alcuni giornalisti della testata locale. Questi quindi gli aggiornamenti agghiaccianti sull'orrore del omicidio della donna appunto ritrovata cadavere nei giorni scorsi. Notizie di cronaca che ovviamente hanno attenzione in queste ore in cui tutti gli occhi sono concentrati sulla Turchia, proprio dove sono in corso i colloqui. Un tentativo che si spera possa dare una svolta ai negoziati per arrivare a un cessatore fuoco dopo oltre un mese dall'invasione della Russia in Ucraina. E allora andiamo a leggere qualche dettaglio di quello che sta accadendo, quali sono le ultime notizie che arrivano da Istanbul e dalla capitale turca, dove ha parlato già anche il presidente Erdogan. I colloqui sono cominciati questa mattina alle 9. È di nuovo il primo incontro in presenza in oltre due settimane. L'Ucraina ha affermato che l'obiettivo più ambizioso è garantire un cessate il fuoco. Arrivare alla pace e al cessate il fuoco il prima possibile sarà un beneficio per entrambe le parti, ha affermato il presidente turco Erdogan citato dalla TV di Stato, incontrando la delegazione russa e ucraina prima del nuovo giro di colloqui. Allora leggeremo poi anche quali sono tutte le prime dichiarazioni che arrivano dalla Turchia. Intanto torniamo però a Lecco da Elisa Santamaria. Sì, noi ci siamo avvicinati alla spiaggia presente sull'argine dell'Adda. L'abbiamo detto prima, puoi vedere l'isola Viscontea che si trova all'interno del fiume, tra il ramo Lecchese dell'Ario e il lago di Garlate, un isolotto di ridotte dimensioni. Puoi vedere come la siccità ha abbassato tanto il livello del fiume che la spiaggia raggiunge uno spazio molto vicino proprio a quello che ormai entra nel letto del fiume, possiamo dirlo così in parole semplici. Entra letteralmente nel fiume, sembra quasi di poter raggiungere l'isola Viscontea a piedi. Sono esposti quei ciotoli, quei sassi che normalmente sono coperti dall'acqua. La situazione ovviamente è davvero molto preoccupante. Puoi guardare, si potrà vedere anche nelle immagini, come tutta la riva sia esposta. Tutto quello che possiamo vedere, anche gli alberi, vediamo come la sabbia risulti ormai totalmente scoperta dall'acqua. Dicevo che questa mattina abbiamo sentito Alessandro Folli che è il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi e Ambi Lombardia, l'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni, per cercare di capire l'attuale situazione e cosa sta accadendo. Tieni presente che da questo consorzio dipendono centinaia di chilometri di canali e roge imperniati sostanzialmente sul Naviglio Grande e sul canale Villoresi. Ci ha spiegato che chiaramente la situazione è drammatica. È drammatica e lo aveva già fatto quando lo avevamo potuto intervistare circa, ormai sono passati anche già due mesi fa, proprio ai piedi del ponte della Becca, dove il Po aveva lasciato scoperto decine di metri di spiaggia, normalmente invece parte del fiume. Già allora ci aveva spiegato che l'emergenza, il campanello d'allarme era già suonato. Immaginiamoci oggi a distanza di due mesi quale sia la situazione. Bene, si stava recando al Ministero dell'Ambiente a Roma, lo abbiamo sentito proprio mentre era in aeroporto, per portare l'attuale situazione della Lombardia ai tavoli ministeriali per cercare di capire cosa fare. Venerdì ha in programma anche un incontro in regione Lombardia con quello che era l'ex magistrato del Po oggi, si chiama Agenzia Interregionale per il fiume Po, perché la situazione è allarmante, presenti ci saranno anche le istituzioni lombarde. Cosa chiederà? Secondo quanto ci ha spiegato, chiederà di poter invasare maggiormente i fiumi lombardi, tra questi anche il lago di Como, perché questo permetterà di raccogliere una maggior quantità d'acqua in vista delle prossime irrigazioni, perché a soffrire chiaramente in questo momento sono tantissimo le colture. Ieri abbiamo visto un fiume del Po molto basso, ci ha spiegato proprio oggi che ieri mattina era stata rilasciata l'acqua, e noi ne abbiamo vista veramente poca, per poter permettere il minimo indispensabile per poter irrigare i campi nella valle, per dare un po' di respiro all'agricoltura in valle. Questo al termine di un periodo di manutenzioni che vengono fatte regolarmente, quindi la siccità incombe anche sui canali, la pioggia non c'è e tantomeno la neve. La perturbazione che sta arrivando dall'Atlantico dovrebbe portare un respiro di sollievo ai territori al nord della Lombardia. Già domani, attese le prime piogge, difficile ancora capire quanto pioverà domani, mentre si guarda più fiduciosi alla giornata di venerdì, quando potrebbe anche tornare la neve in quota. La neve ovviamente porterà grande sollievo per tutti, ovviamente per il sistema idrico lombardo. Noi lo abbiamo sentito, ha detto che chiederanno alle aziende, alle società idroelettriche di poter rilasciare una maggiore quantità d'acqua nel momento in cui fosse necessario. Ovviamente speriamo che questo potrà quantomeno alleviare la situazione, perché comunque Fogli è stato molto chiaro. Si tratta solo di una situazione momentanea che aiuterà ma non risolverà la situazione. Chiaramente quello che serve non sono due giorni di pioggia, ma delle piogge decisamente più ricorrenti e più importanti per risolvere davvero questa grave crisi idrica che sta attanagliando tutto il nord Italia, in particolare la Lombardia che, come abbiamo visto sia ieri che oggi, sta soffrendo della mancanza d'acqua con prevedibili ripercussioni su quella che è l'agricoltura. Ti restituisco la linea qui da Pescaremico. Andiamo a vedere che anche sul Corriere del Ticino c'è un aggiornamento, l'emergenza siccità naturalmente riguarda tutte le zone, ovviamente non solo la Lombardia e allora c'è una fotografia dello stato di salute dei principali fiumi del Luganese. Quasi tutti hanno una portata tra le tre e le quattro volte inferiore alla media annuale. L'impatto sulla fauna ittica è da monitorare con attenzione, ma nessun allarmismo. Domani appunto è prevista la pioggia, ma anche sul Corriere del Ticino, leggiamo, potrebbe non bastare che la siccità degli ultimi mesi abbia inflitto un duro colpo a laghi e fiumi e sotto gli occhi di tutti, nonostante nei prossimi giorni la pioggia, anche se poca, dovrebbe tamponare una situazione definita vicinissima ai minimi storici. Le immagini sono state pubblicate anche dal Corriere del Ticino. La situazione che si sta verificando nel vedeggio è proprio una delle peggiori. Vasti pensare che il livello del fiume nel mese di marzo ha una portata di circa cinque volte inferiore rispetto alla media annuale. Una situazione questa che si sta verificando da quattro mesi e non si tratta appunto di un caso isolato. Quindi anche sul Corriere del Ticino in primo piano l'emergenza siccità che anche oggi stiamo documentando proprio con il nostro collegamento da Lecco e da Pescareni, che abbiamo visto con Elisa Santa Maria. Ma torniamo a quella che è appunto anche naturalmente la cronaca, l'aggiornamento in tempo reale di quello che sta succedendo in Turchia, dove sono in corso i negoziati di pace, colloqui che si spera con la presenza, con la mediazione del presidente turco Erdogan che possano portare a una svolta positiva verso il cessate il fuoco. E allora proprio il presidente turco Erdogan ha dichiarato questa mattina arrivare alla pace e al cessate il fuoco il prima possibile sarà un beneficio per entrambe le parti. Le parole proprio queste sono state prima dell'incontro che è iniziato alle nove di questa mattina. Entrambe le parti hanno legittime preoccupazioni, detto Erdogan, accogliendo le delegazioni di negoziatori, invitandoli a porre fine a questa tragedia. Erdogan dice che sia il presidente ucraino Zelensky sia il presidente russo Putin sono amici preziosi e che progressi nei negoziati aprirebbero la strada all'incontro tra i leader, si legge anche sulla BBC, che la Turchia potrebbe ospitare una pace giusta, non avrà un perdente e la continuazione del conflitto non giova a nessuno, aggiunto poi il presidente turco nel suo benvenuto ai negoziatori russi e ucraini citato dalla BBC. In un momento così critico mi auguro che i nostri incontri e le nostre discussioni siano di buon auspicio per i vostri paesi, per la nostra regione e per tutta l'umanità. Il presidente ha poi chiesto un immediato cessate il fuoco e che fermare la tragedia dipende da entrambe le parti. Si parla poi anche della presenza di Roman Abramovic che ha assistito al discorso del presidente turco che ha accolto le delegazioni, lo fa sapere una giornalista proprio del quotidiano turco che ha condiviso una fotografia del miliardario russo seduto tra i funzionari turchi durante il discorso del presidente turco. Nelle immagini trasmesse dai media del paese si vede Abramovic che non è seduto al tavolo principale della delegazione russa e ucraina ma di lato accanto a un portavoce del presidente Erdogan indossi a cuffie per la traduzione e avrebbe aiutato anche a coordinare gli incontri tra l'oligarca russo e un membro della delegazione ucraina in un hotel di Istanbul. La presenza di Abramovic, sottolinea la BBC, suggerisce che è ancora coinvolto a qualche livello nei tentativi di mediazione. Andiamo però a leggere sul Corriere della Sera l'approfondimento perché lo abbiamo detto proprio su Roman Abramovic nelle scorse ore si è concentrata l'attenzione per un giallo su un presunto avvelenamento che sarebbe avvenuto proprio durante una delle riunioni precedenti con proprio la delegazione nel tentativo di trovare un accordo di pace. Allora leggeremo tra pochissimo di questo presunto avvelenamento ma vedo di nuovo collegata Elisa Santamaria quindi torniamo a Pescarenico. Sì perché ci siamo spostati lungo la riva, abbiamo incontrato la signora Maddalena che è una appassionata di fotografia. Abbiamo parlato prima della siccità ma anche il luogo merita insomma di essere scoperto. Maddalena in questo periodo quali sono gli uccelli che si vedono? Qua ci sono gli aironi cinerini che vengono a fare i nidi, i cormorani e poi di là ci sono i nibbi che sono dei rapaci che vengono tutti gli anni in questo periodo a svernare, a fare il nido praticamente, solo che non li ho ancora visti, io sono venuta per controllare se erano arrivati ma non ne ho visto neanche uno volare. Fanno il nido dall'altra parte del fiume dove ci sono alberi e così e oramai vengono perché di là c'è un pescatore che c'è anche un ristorante e ogni tanto butta dei resti di pesce e loro scendono, si abbassano per prendere questi resti di pesce insomma. A volte pescano anche. Ormai sono diventati frequentatori abituali anche loro. Sì, sono diventati frequentatori anche per questa cosa qui, solo che non li ho ancora visti e mi dispiace un sacco. Maddalena, oggi abbiamo parlato del fiume che è molto basso, il livello dell'acqua è molto basso, di solito dove arriva? Eh beh, di solito arriva qua così. È tutta coperta questa zona di Sadia? Quasi, sì, sì, quasi sì, no, no, ma c'è una siccità dappertutto, non solo qua, proprio è una roba incredibile se andiamo avanti così, non lo so. È strano vedere il fiume in queste condizioni? Eh sì, è molto strano, capita raramente vederlo proprio così. Addirittura lì si è scoperta una sorta di spiaggia, di solito arriva alle mura? Eh sì, si vede un tantino la spiaggia però molto meno naturalmente, è chiaro. Insomma c'è da preoccuparsi? Insomma, se non piove sì. Intanto però per fortuna i nostri uccelli non mancano? No, gli uccelli intanto no. Adesso vado là a vedere se ci sono gli smerghi, quelli acquatici che sono però sono lontani, non riesco a fotografarli. Va bene, grazie mille Maddalena per essere stata con noi e per averci anche illustrato quali siano le specie presenti in questo momento. solo che bisognerebbe sempre essere qua perché non sempre... Tu quando vieni? Ogni tanto... Vieni a fare il tuo video? Sì, ogni tanto vengo a controllare se trovo qualcosa, magari poi ci ritorno, ma se non trovo niente torno dopo un periodo, ecco, tutto lì. È così, gli appassionati di animali fanno così. Grazie mille Maddalena. Anna, arrivederci. Anna, ti restituisco la linea. Grazie e lo stavamo dicendo, poi leggeremo ancora qualche dettaglio perché proprio c'è questo giallo anche sul presunto avvelenamento di Roman Abramovic e di altri due negoziatori. Sarebbe stato curato in Turchia e avrebbe perso anche per alcune ore la vista, la notizia del presunto avvelenamento diffusa dal Wall Street Journal. Ucraina e Stati Uniti smentiscono, ma c'è la conferma del portavoce del miliardario, i sintomi, eruzioni cutanee, mal di testa, perdita della vista. Di sicuro c'è solo che Roman Abramovic assieme a due negoziatori ucraini è stato male nei giorni scorsi per una forte intossicazione, un tentativo di avvelenamento o una semplice questione ambientale come sosterrebbe l'intelligence americana. Secondo la presidenza Ucraina poi sarebbero tutte illazioni. I funzionari e gli altri personaggi che oggi dovrebbero riprendere i colloqui li hanno ripresi con la controparte russa in Turchia stanno lavorando. Normalmente è difficile quindi capire cosa sia successo anche perché tra Russia e Ucraina, quando si sente parlare di sintomi misteriosi di possibile avvelenamento, il pensiero corre subito ai tanti precedenti, uno più grave dell'altro. dall'ex agente del KGB Livitienko, assassinato a Londra nel 2006, fino anche a Navalny che tentarono di eliminare mettendogli appunto il veleno. Negli slip il candidato alle presidenziali ucraine del 2004, Yushchevchenko, che si ritrovò con il corpo coperto di bolle e si salvò per miracolo. Quindi sono tanti i precedenti. Adesso però abbiamo già visto questa mattina che Abramovic è di nuovo presente ai negoziati, è in Turchia, sta partecipando ai negoziati tra Russia e Ucraina, quindi il giallo sicuramente resta, se ne continuerà a discutere, ma sicuramente se si fosse trattato davvero di un tentativo di avvelenamento, cosa che peraltro sarà difficile da dimostrare, i sintomi comunque fortunatamente sarebbero stati lievi e comunque già risolti nel giro di pochi giorni, perché appunto oggi vediamo Abramovic in buona salute, fortunatamente che sta proprio partecipando alla riunione in corso nella capitale turca. E allora continueremo a parlare di questo e di molto altro subito dopo la pubblicità. Bentornati a ITG più Today, la seconda parte della nostra trasmissione. Vi ricordo ancora che è sempre possibile anche intervenire in diretta, 031-330-0655 per le telefonate, 335-708-4396 invece per i messaggi WhatsApp. C'è un aggiornamento anche sulla situazione della viabilità, perché il sito di Anas segnala un incidente sulla strada statale 11 Padana Superiore tra l'incrocio tra Villa Fornaci e la strada statale 525 del Brembo, quindi attenzione e ripercussioni sul traffico anche in questa zona. Abbiamo visto prima invece gli altri aggiornamenti. Vado ad un aggiornamento anche sul nostro sito espansionetv.it, perché ieri sera abbiamo iniziato a documentare un episodio davvero grave nel Parco Pineta con una montagna di pneumatici abbandonati proprio nel Parco Pineta con etichette svizzere. Nella giornata di oggi naturalmente vi daremo ulteriori informazioni, faremo degli ulteriori approfondimenti sul caso segnalato ieri da un telespettatore che ha inviato appunto anche queste foto che mostrano la montagna di pneumatici abbandonati nel Parco Pineta. Decine di gomme di automobili tra le quali anche alcune coperture da corsa abbandonate vicino all'Urago Marinone nel pieno di un parco, un'area per definizione protetta e tutelata. Su alcune gomme, come vediamo sempre dalle foto che ci ha inviato il telespettatore, compaiono anche delle etichette che rimandano a veicoli svizzeri del canton Ticino. Non è escluso che parte dei rifiuti arrivino proprio quindi dalla vicina Svizzera, ve lo dicevo, nella giornata di oggi. Naturalmente vi daremo ulteriori aggiornamenti, andremo anche ad approfondire la notizia e a cercare di capire appunto cosa sia accaduto e quali sono anche gli accertamenti per risalire ai responsabili di questo gravissimo episodio nel Parco Pineta in una zona protetta. Ma si parla inevitabilmente ormai da oltre un mese della situazione legata all'invasione della Russia in Ucraina. Si avvicina però parlando invece anche di emergenza sanitaria, di Covid, l'attenzione è un po' calata, ma abbiamo visto nei giorni scorsi ancora numeri elevati di contagi. Siamo però nella settimana che ci porterà alla fine dopo due anni dello stato di emergenza e allora anche di questo potremo continuare a parlare, ma torniamo prima da Elisa Santamaria. Sì perché ci siamo spostati, abbiamo raggiunto un'edicola presente qui davanti al ponte Azzone e Visconti, siamo con Massimiliano. Buongiorno Massimiliano, innanzitutto tu che qui ci vivi tutti i giorni praticamente. E com'è il fiume? Il fiume è bassissimo. Com'è in che senso? Sì, sì, no, no, è basso. È bassissimo. Di solito la spiaggia là non è mai coperta, la vedi? Non è mai scoperta. Non è mai scoperta e quindi è un bel problema anche perché ha nevicato poco e per cui ci sarà, penso, difficoltà quest'estate o di approvvigionamento d'acqua. Tra l'altro questo ponte segna proprio il punto in cui finisce il lago. Il ponte è quello là, il ponte nuovo. Dal ponte nuovo. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Praticamente da dopo il ponte nuovo, che è il ponte Kennedy, inizia il lago. Ok. Qua c'è il fiume che è l'Adda e arriva giù fino a, dopo Pescarenico, arriva nel lago di Garlate. Ecco, perfetto. Noi abbiamo visto invece anche una targa che è presente qui dove c'è proprio il fiume. La famosa targa del Manzoni, dall'inizio dei Promessi Sposi, proprio l'Incipit. Che invece parlava proprio di questo ponte come punto di unione. Il punto di unione si è sbagliato leggermente. No, anche perché una volta c'era solo questo ponte. Quello l'hanno fatto nel 55, 56. E quindi hanno spostato un pochino, hanno meglio definito, diciamo, questo punto di contatto. Abbiamo parlato delle difficoltà ovviamente legate alla siccità, ma con te volevamo anche capire qual era la situazione qui a Alecco legata invece a come si vive, ad esempio questo aumento dei prezzi e questa situazione legata al conflitto. Te che spesso puoi interfacciarti con molte persone. C'è molta preoccupazione, si vede anche dal calo del lavoro che è notevole, perché la gente chiaramente quando aumenti le bollette, la benzina, insomma i giornali poi diventano un po' il... non è la priorità, ecco, per cui... scusi un attimo, eh. Ecco, ecco, ovviamente è impegnato anche sul suo lavoro. Quindi abbiamo visto, abbiamo detto prima, Anna, guarda, quello è il Ponte Nuovo, così te lo faccio vedere bene, quello è il Ponte Nuovo che sancisce l'argine, che definisce l'argine tra l'Adda e il fiume, mentre questo che è il Ponte Azzone-Visconti, adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere la targa di cui ti parlavo prima, ecco, quella targa invece riporta la citazione dei Promessi Sposi dove veniva indicato esattamente questo punto come il luogo che segnava la fine e l'inizio rispettivamente del lago e del fiume. Possiamo vedere meglio anche dalle immagini come il livello dell'acqua, anche in questo punto, sia davvero molto basso, scoperte quelle spiagge che in realtà normalmente non sono presenti e c'è grande, grande preoccupazione, l'abbiamo sentito anche dalle parole del nostro ospite che ci ha ovviamente meglio definito sia esattamente il luogo dove ci troviamo con l'informazione legata al nuovo ponte, sia i livelli normali del fiume che noi vediamo veramente molto molto basso. Io vedo che Massimiliano è ancora impegnato ovviamente nel suo lavoro, adesso ci sta raggiungendo, vediamo, riesce a tornare da noi? Ha detto che c'è stato un calo di lavoro ma noi lo vediamo impegnatissimo, speriamo di portargli bene in questo senso. Ovviamente la preoccupazione, Anna, come ho sentito dallo studio, stavi parlando anche prima delle situazioni, delle difficoltà legate al conflitto, poi di questo triste fenomeno legato a queste possibili intossicazioni, c'è grande preoccupazione legato a tutto contesto. Ovviamente avendo la possibilità di interfacciarsi con un gran numero di persone, Massimiliano sicuramente riesce a recepire meglio quali sono anche i timori legati all'aumento del costo della vita. Vediamo se adesso riusciamo a sentirlo, anche in merito a questo, mentre ha appena finito ovviamente di salutare un cliente. Massimiliano, allora ci siamo lasciati mentre stavamo parlando dell'aumento del costo della vita, delle preoccupazioni legate all'attuale situazione economica. Nel frattempo noi abbiamo fatto un giro, abbiamo fatto vedere anche la targa dei promessi del Manzoni. Esatto. Cosa riesci a raccogliere dai tuoi clienti? Quali sono le preoccupazioni che le angosciano di più? Abbiamo visto solo pochi giorni fa i prezzi della benzina impennati, però ci sono le bollette. Ma sicuramente anche il prezzo dell'energia, sì sì, sono preoccupatissimi perché guardi poi lì c'è l'accel, arriva di quella gente con quelle bollette che è pieno lì di fila di gente che va a chiedere spiegazioni perché in effetti c'è stato un triplichamento, c'è un aumento notevole. Quindi appunto c'è gente che viene spaventata a chiedermi che cosa sta succedendo, che cosa... e c'è molta preoccupazione, sì. Massimiliano, grazie. Sicuramente l'aumento dei costi riguarda tutte le compagnie, a prescindere insomma da quella del proprio operatore. Grazie per essere stato con noi, restituisco la linea allo studio. Grazie Elisa e al tuo ospite. Allora, lo stavamo dicendo un po' su tutti gli organi di informazione in questo momento. L'attenzione è concentrata soprattutto sulla capitale turca dove a partire dalle nove sono in corso i negoziati per cercare di arrivare a una cessate il fuoco. Naturalmente le speranze sono tante, tante le attese. Il presidente turco Erdogan si è messo in gioco in prima persona e tra l'altro avrebbe già dato anche la disponibilità ad ospitare proprio in Turchia un eventuale incontro tra Zelensky e Putin. Non c'è ancora stato naturalmente dall'inizio del conflitto armato, dell'invasione della Russia in Ucraina, un confronto di persona tra i due leader e proprio appunto Erdogan sta lavorando anche per un eventuale faccia a faccia che dovrebbe avvenire in territorio neutro naturalmente. Quindi una delle ipotesi è quella della Turchia proprio per far incontrare Zelensky e Putin. Nel frattempo però c'è comunque un cautissimo ottimismo su quelli che potrebbero essere gli esiti di questo faccia a faccia partito questa mattina tra le delegazioni. C'è anche Abramovic, lo evidenzia anche il Sole 24 Ore e questo viene messo in evidenza. Questa presenza di Abramovic lo abbiamo detto proprio per il giallo del presunto avvelenamento del miliardario russo che vive da tempo nel Regno Unito e anche si parla di altri due appartenenti alla delegazione proprio dei trattati che ha partecipato ai trattati di pace. Mosca cede sulla denazificazione a Chieve nell'Unione Europea. Queste sono le anticipazioni del Financial Times mentre le delegazioni ucraina e russa sono arrivate a Istanbul dove riprenderanno i colloqui nella città turca. Anche Abramovic secondo fonti russe la neutralità dell'Ucraina potrebbe essere messa sulla carta. Biden ribadisce Putin è un dittatore. Pescov la guerra con la Nato non vogliamo pensarci. Queste le parole che arrivano dalla Russia. La Russia non chiede più che l'Ucraina venga denazificata. Questo termine utilizzato viene messo sempre tra virgolette. Ovviamente lo ricordiamo è il termine che è stato utilizzato fin dall'inizio dell'invasione da Putin proprio per questo viene riportato naturalmente tra virgolette proprio per indicare il termine riferito utilizzato da Putin ed è pronta a lasciare che Chieve aderisca all'Unione Europea a patto che rimanga militarmente non allineata. Questo scrive il Financial Times citando quattro persone informate sui negoziati tra i due paesi nella bozza del documento per il cessate il fuoco. Sottolineano le fonti non compaiono più le parole denazificazione, smilitarizzazione e protezione legale per la lingua russa. Mentre partono i negoziati in Turchia le concessioni da parte della Russia arrivano in un momento in cui l'offensiva di terra è in una fase di stallo grazie alla resistenza dell'Ucraina. Dalla bozza resta fuori uno dei punti più critici per l'Ucraina ovvero la rivendicazione delle regioni separatiste filorusse del Donbass e di Donetsk. A introdurre i colloqui il presidente turco Erdogan che ha invocato subito il cessate il fuoco specificando che entrambe le parti hanno legittime preoccupazioni. Roman Abramovic ha assistito al discorso del presidente turco Erdogan che poco fa ha accolto le delegazioni di Russia e Ucraina oggi a Istanbul per i colloqui. Lo fa sapere la giornalista del quotidiano turco Kokak condividendo una fotografia del miladario russo seduto tra i funzionari turchi durante il discorso del presidente turco. I termini dello status neutrale dell'Ucraina sono discussi nei colloqui a Istanbul, lo ha detto a Interfax, una fonte che ha familiarità con i progressi dei negoziati. Le parti hanno iniziato i negoziati a livello di capi, delegazione in particolare è stata sollevata la questione dei termini del possibile status neutrale dell'Ucraina, ha detto la fonte. Presumibilmente l'incontro può finire con la messa su carta dei termini dello status neutrale, ha detto. Si tratta di una bozza, di un certo accordo o dichiarazione. Tutto è allo stadio di discussione, ha detto la fonte. Il presidente della Turchia, Erdogan, intanto ha preparato l'incontro parlando sia con Vladimir Putin che con Zelensky, quest'ultimo dal canto suo, si è detto disposto a discutere della futura neutralità del paese senza rinunciare all'integrità territoriale. Si spera dunque nella svolta, ma è forte lo scetticismo anche dopo la notizia dell'avvelenamento, presunto naturalmente al momento, di Abramovich e di altri due mediatori. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Putin non ritratta e su Twitter insiste è un dittatore, mentre il presidente francese Emmanuel Macron sentirà Putin. Oltre mille mercenari della Wagner sarebbero schierati nell'est dell'Ucraina. Vediamo ancora gli ultimi aggiornamenti, sempre dalla Turchia. I negoziatori sono arrivati, sono iniziate le trattative a partire più o meno dalle 9 di questa mattina. Il presidente della Turchia ha ribadito che l'intesa e l'intenzione è quella di arrivare a risultati concreti. Infine un'ultima dichiarazione che arriva dalla Russia con il Cremlino che ha smentito di voler pensare ad un attacco ai paesi della Nato. La Russia non ha in mente alcun attacco ai paesi della Nato, lo ha detto al canale televisivo americano PBS. Il portavoce del Cremlino, Peskov, a meno che non sia un atto reciproco. Ma non possiamo pensarci e non vogliamo pensarci. Ha spiegato Peskov che ha aggiunto che la Russia si sente circondata da una realtà ostile perché è nel mezzo di una guerra economica e commerciale portata avanti dai paesi dell'Occidente e poi dobbiamo adattarci alle nuove condizioni e sfortunatamente sono piuttosto ostili. I paesi dell'Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia stanno conducendo una guerra contro di noi nel commercio, nell'economia, nel sequestro delle nostre proprietà, nel sequestro dei nostri fondi, nel blocco delle nostre relazioni finanziarie. Dobbiamo adattarci alla nuova realtà. Queste le parole che arrivano dalla Russia e dal portavoce del Cremlino che esclude però un attacco alla Nato. Questi invece gli aggiornamenti che andiamo a rivedere anche dall'Ansa dove ancora la foto di apertura naturalmente è dedicata ai negoziati in corso in Turchia. Si parla delle dichiarazioni che arrivano da Kiev, dalla capitale ucraina. Insisteremo sulle garanzie di sicurezza mentre Mosca ipotizza la neutralità dell'Ucraina che sarebbe già appunto nella bozza di accordi che potrebbe uscire dall'incontro di oggi in Turchia. Intanto vediamo anche la cronaca della giornata dove però si parla sempre di una situazione drammatica e di 400 morti come dice il sindaco di Cerniv, una delle città bombardate. L'unica notizia che può lasciare spazio a un pochino di ottimismo è quella della riapertura di tre corridoi umanitari ancora per permettere o si spera almeno ai civili che ancora sono rimasti di lasciare l'Ucraina. Anche sull'Ansa però torniamo alla cronaca italiana, la svolta delle scorse ore dell'omicidio del corpo della giovane donna fatto a pezzi nel Bresciano è stato appunto fermato, lo abbiamo letto prima, un uomo di 43 anni vicino di casa della vittima. Un uomo è stato sottoposto a fermo per l'omicidio della donna trovata morta a Borno una settimana fa. L'uomo avrebbe già confessato, è un amico della vittima che è stata identificata come Carol Maltesi in arte Charlotte Angie, milanese nota nel mondo dell'hard. E allora queste le notizie che arrivano in questi minuti, ma siamo pronti anche per il nostro collegamento Skype. E allora penso che possiamo essere pronti, esatto, vedo collegato Andrea Ceresini, giornalista che è tornato da Kiev da pochi giorni. Ci può aiutare a capire quali sono gli ultimi aggiornamenti e soprattutto quali possono essere le aspettative reali su questo incontro in corso in Turchia? Beh sì, diciamo che le richieste di Putin, Charles Zelensky sembra rispetto al passato più disposto ad accogliere queste richieste, che si sono fatte anche un po' più miti diciamo da un certo punto di vista. Bisogna capire se il popolo ucraino che io ho visto molto combattivo, l'esercito ucraino, saranno disposti a questo che è comunque un venire incontro alle richieste di Putin. Quindi la Crimea, il Donbass sono regioni che l'Ucraina reclama da otto anni. Il non ingresso della Nato è un altro diktat abbastanza pesante. È anche vero però che la guerra, insomma gli Ucraini non possono reggere questo conflitto ancora a lungo, visto che comunque il paese sta subendo danni pesantissimi a livello economico. Più di 10 milioni di profughi hanno già lasciato il paese, quindi insomma un paese svuotato di un quarto della sua popolazione, quindi diciamo ci metterà anni a tornare ai livelli economici, produttivi dell'anteguerra. Quindi non so, insomma un braccio di ferro tra le richieste di Putin che sono comunque pesanti e secondo me se Zelensky dovesse accettarle to cure rischierebbe anche una rivolta da parte dei settori più combattivi della popolazione, dell'esercito e dall'altra parte il dato di fatto che l'Ucraina non può reggere a lungo, forse militarmente sì comunque perché ci sono le armi che vengono dall'Occidente, ci sono gli aiuti, quindi militarmente forse può anche reggere, però reggere ancora un altro mese così vuol dire comunque ritrovarsi poi un paese in ginocchio che non sarebbe più in grado per molto tempo di rialzarsi. Ecco, dalle ultime indiscrezioni sembra che Putin sarebbe anche disponibile a rinunciare al Donbass o almeno queste sono le ultime indicazioni che arrivano anche dalla Turchia, è possibile questa svolta e perché davvero è in una situazione di difficoltà per arrivare appunto a rinunciare a quello che era uno dei punti sicuramente cardine delle richieste della Russia? Ma io la vedo molto difficile soprattutto dal punto di vista del suo prestigio comunque perché il Donbass che nel 2014 era un territorio diciamo multietnico, si può parlare di etnia in questo caso visto che ripeto che ucraini e russi comunque sono due popolazioni praticamente sovrapponibili, però diciamo che adesso nel Donbass separatista la popolazione filo-ucraina ha abbandonato il paese da un pezzo, quindi sono rimasti i filo-russi che da otto anni chiedevano l'intervento dei russi e chiedevano che Putin intervenisse per far fermare i bombardamenti che comunque c'erano quotidianamente da parte dell'esercito ucraino e da parte dei separatisti verso i territori del Donbass controllati dagli ucraini, quindi non penso che la popolazione del Donbass permetterebbe o comunque sarebbe una rinuncia molto molto pesante da parte di Putin a livello di prestigio perché poi tutto questo insomma lui diciamo nominalmente l'ha fatto per salvare il Donbass da quello che lui chiama un genocidio, quindi avrebbe giustificato l'intervento in questo modo qua per poi dopo rimangiarsi quello che ha detto e cedere, comunque rinunciare al Donbass e lasciarlo quindi all'Ucraina non penso che sia una cosa, nel senso se fa una cosa simile vuol dire che sta veramente messo alle strette perché la situazione interna russa, la situazione militare russa anche non gli permette di andare avanti anche a lui cioè è un gioco, un braccio di ferro per lo sfinimento, nel senso i russi hanno perso tantissimi uomini hanno perso... se non mi sentite più? No, adesso ti sentiamo Ah ok, hanno perso tantissimi uomini, hanno all'interno insomma un'opposizione alla guerra che comunque c'è e si fa sentire rischiano anche loro insomma dal punto di vista economico, come avendo la Cina alle spalle che ovviamente è sempre un polmone gigantesco, però rischiano comunque che la loro economia sia surplassata da questo conflitto, dalle sanzioni, quindi è un braccio di ferro tra chi cede per primo insomma, tra russi e ucraini se Putin veramente rinunciasse al Donbass vorrebbe dire che sta alla canna del gas Ecco, volevo chiederti un'ultima cosa, che situazione hai lasciato a Kiev? Chi è rimasto in città? La maggior parte dei civili davvero sono andati via e chi è rimasto? Come sta vivendo in queste ore? Ma fai conto che io manco da Kiev in realtà da un paio di settimane, perché sono venuto via due settimane fa però c'ho molti colleghi là insomma che mi raccontano e la situazione è più o meno sempre la stessa cioè la città è completamente vuota, i negozi sono chiusi, tranne pochi abitanti insomma che più per ragioni sentimentali cioè perché non vogliono lasciare le loro case sono rimasti, tutti gli altri sono scappati via quindi immaginate una città di 3 milioni di abitanti, quindi il doppio di Milano, completamente vuota senza più nessuno, la città comunque attualmente è ancora integra nel senso che nessuno ha bombardato il centro tranne qualche piccolo episodio, quindi la periferia invece a nord-est, a nord-ovest e i paesi della cintura urbana quindi quelli famosi insomma che abbiamo conosciuto dai giornali, Bucha, Irpin che sono praticamente rasi al suolo ma la città insomma che vive in questa specie di incubo, in questa specie di attesa che dura ormai dall'inizio della guerra cioè dall'inizio della guerra che i russi sono alle porte di Kiev e non entrano però la città si è vuota, restano solo i molti cittadini che sono tanti che hanno deciso di imparciare il fucile e i pochi invece che hanno deciso di restare nelle loro case perché non vogliono lasciare i loro appartamenti ma non riusciaccarli fondamentalmente, però insomma è una città fantasma Kiev in questo momento E allora io ringrazio davvero Andrea Ceresini per questi aggiornamenti da conoscitore davvero della realtà e di quello che sta succedendo Grazie e buon lavoro Grazie a voi Grazie a voi E invece dal conflitto ci spostiamo un attimo anche di nuovo alla situazione italiana, alla pandemia perché lo abbiamo accennato anche all'inizio della puntata siamo nella settimana che segnerà dopo due anni la fine dello stato di emergenza il governo ormai lo ha confermato, tutto è stato pubblicato anche in gazzetta ufficiale le notizie sono ormai confermate e certe il 31 marzo sarà l'ultimo giorno dello stato di emergenza che non sarà rinnovato quindi di fatto dal primo aprile si aprirà un percorso comunque ancora graduale di ritorno verso la normalità e allora lo andiamo a vedere anche sul Sole 24 ore con quello che succederà dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto con la roadmap del ritorno alla normalità come cambierà la vita degli italiani a partire dal primo aprile l'Italia non sarà più in stato di emergenza a causa del covid non è però un liberi tutti intanto lo ricordiamo resta per ora fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine al chiuso e anche l'obbligo di green pass per molte attività dai ristoranti al lavoro l'obbligo sarà poi cancellato dal primo maggio torniamo però anche da Elisa Santamaria Sì, siamo sempre lungo le rive dell'Adda con me c'è Mauro che è un pescatore, un appassionato di pesca e questa mattina era qui per fare dei lavori di manutenzione alla barca Sì, ho rigovernato la barca perché era un po' sporca gli ho dato una pulita in modo che oggi magari possiamo uscire e provare a pescare un po' Ecco, chi meglio di tempo a fare il punto sulla situazione di questo fiume che è bassissimo dove arrivava normalmente l'acqua? Ce ne sono tanti che sapevano farlo meglio in ogni caso basta guardare qui intorno c'è tutto questo pezzo di ghiaia che è emerso e manca almeno un metro di acqua così a occhio insomma in realtà se uno guarda i grafici che l'autorità di bacino mette a disposizione siamo sotto 30-40 centimetri sotto la media stagionale però in questo periodo è comunque un periodo in cui il lago è già basso quindi essere ulteriormente sotto la media e si vede d'altra parte non è frequente vedere così tanta riva libera qua intorno ecco così esposta così esposta senti ma a cosa riesci a pescare? qua? i pesci che ci hanno voglia di abboccare diciamo in questo periodo si cerca di prendere qualche lavarello ma non qui nel fiume su nella parte del lago nel ramo di Lecco c'è ancora qualche persico anche se a breve sarà chiuso perché c'è un periodo di riproduzione quindi aprile-maggio sarà chiuso con un po' di fortuna qualche volta qualche trota capita sempre su dalla parte del lago diciamo che la stagione migliore per pescare da riva deve ancora arrivare ecco insomma è da pochissimo che pesco con la barca perché sono tre settimane che ho recuperato la barca fino a prima ho sempre pescato da riva quindi con la barca devo ancora capire bene come ci si muove però da riva sono diversi decenni che pesco non è ancora la stagione buona per la riva poi il pesce che si prende più facilmente da queste parti è il pesce persico poi ovviamente c'è di tutto tutto qua dentro ci sono cavedani, scaldole, barbi, savette purtroppo siluri cavedani l'ho detto altre insomma ci sono parecchi pesci che poi il persico è famoso per il risottino al pesce persico sì è vero il risotto al pesce persico è un must ecco diciamo che però io le mie scorte di pesce persico spesso mi piace farle con la pasta asciutta in un modo un po' diverso però è buono comunque e allora su questi consigli culinari noi restituiamo la linea da Pesca Renico e grazie Elisa questa chiusura così anche con il sorriso perché siamo arrivati alla fine di questa puntata con l'attenzione concentrata sulla Turchia nella speranza che davvero dalle trattative possano arrivare segnali incoraggianti proprio per una possibile c'è stato il fuoco tra Russia e Ucraina continueremo ad aggiornarvi lo faremo a partire dal TG delle 12.30 con i nostri siti con il sito Espansione TV e con i canali social aggiornati naturalmente sempre in tempo reale la puntata di ETG più Today invece termina qui grazie per averci seguito e arrivederci a domani mattina buona giornata Grazie a tutti